Ho trovato non solo competenza, motivazione, conoscenza puntuale e un riferimento a supporti scientifici oggettivamente convincente. Sono convinto che oggi c'è stata una straordinaria posizione espressa da parte di Regione attraverso la bravura dell'Avvocatessa dello Stato, l'Avvocatessa Cristina Gerardi. Io mi aspetto che venga fuori un confronto dialogico che faccia emergere la verità che non può che essere quella che chiama in causa chi ha rovinato il nostro creatore.